Non si vedevano tutti insieme da oltre un anno e invece è accaduto ieri sera nella sala consigliare del comune di Pescara. Il candidato presidente del centrodestra Marco Marsilio è riuscito a mettere seduti allo stesso tavolo tutti i big dei partiti che lo sostengono, ovvero Silvio Berlusconi per Forza Italia, Giorgia Meloni, fratelli d'Italia e il capo indiscusso della Lega Matteo Salvini, alleato fedele del governo Conte con il pentastellato Luigi Di Maio. Presenti anche l'Udc e idea di Gaetano Quagliariello oltre alla lista civica. L'occasione è stata la conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale per il centrodestra e per il suo candidato presidente Marco Marsilio. La domanda sorge spontanea, ma l'esito delle elezioni regionali abruzzesi potrebbe comportare il ritorno della Lega nel centrodestra anche in Italia? Come al solito Matteo Salvini non lascia dubbi. Stiamo cercando di restituire agli abruzzesi quello che in questi mesi di governo abbiamo restituito agli italiani. Orgoglio, dignità, sovranità, controllo dei confini, diritto alla pensione, diritto al lavoro, diritto alla sicurezza e quindi il voto di domenica è assolutamente fondamentale. La mia parola vale più dei sondaggi. Ho dato una parola agli italiani, ho firmato un contratto di governo e quello intende onorare fino in fondo. A livello locale siamo alleati e saremo alleati. A livello nazionale, ripeto, la mia parola vale più di mille sondaggi. Mi possono dire che la Lega è il primo partito, che io potrei fare domani mattina al Presidente del Consiglio. Io faccio con orgoglio il Ministro dell'Interno e intendo farlo per cinque anni. Ma l'esito delle regionali influenzerà sul governo nazionale? No, no. Assolutamente no. Soddisfatta Giorgia Meloni che però punta a un cambiamento del centro-destra anche in Italia. Ma guardi, io non ho fatto mistero di ritenere che a livello nazionale il centro-destra non si potrà ripresentare in futuro così come l'abbiamo conosciuto in passato. Il lavoro che Fratelli d'Italia sta facendo è quello di lavorare a una ridefinizione del centro-destra. centro-destra. Qui però ho un'esperienza particolare perché qui c'è un centro-destra guida Fratelli d'Italia. Il candidato Presidente Marco Marzilli è un nostro esponente e noi pensiamo che possa essere questo di buon auspicio per il futuro perché Fratelli d'Italia è l'unico partito della coalizione monogamo che è rimasto sempre in questo campo e sicuramente un governo guidato da Fratelli d'Italia è un governo che dà garanzie sul fatto che non si faranno patti con i Cinque Stelle o col PD e sul fatto che si porterà a casa il governo per il quale si è stati votati. Speriamo che sia di buon auspicio anche per il governo della nazione in futuro.